buongiorno e bentornati sul canale e oggi bentornati anche sulle pagine del mio blog di musica 125 esima strada oggi il mio ospite posso definirlo un orgoglio nazionale visto che è uno degli italiani che ha più successo all'estero indipendentemente dalla propria professione un cantante metal assolutamente all'apice della sua carriera anzi gli auguriamo di andare ancora più in alto oggi è con me michele guaitoli che è cantante dei temperance e dei visions of atlantis e quindi oggi con michele ovviamente parliamo della sua musica dei suoi dischi più recenti e di quello che bolle in pentola per il futuro anzitutto michele grazie per aver accettato il mio invito nonostante siamo sotto le festività di avermi dato questa opportunità di parlare con te quindi benvenuto grazie a te grazie per le bellissime parole anzi meno male ci sono queste festività perché uno dei pochi momenti in cui sto a casa effettivamente per cui è il momento migliore per fare quattro chiacchiere ottimo ottimo allora si è incastrata bene per entrambi abbiamo un po di cose da raccontarci visto che a questi ultimi anni sono stati per te particolarmente produttivi io direi che partiamo dalla fine partiamo da questo album dei temperance che è uscito recentissimamente che si chiama hermitage e direi che c'è un sacco di novità in questo album rispetto alla musica dei temperance del passato anzitutto questo possiamo definirlo un concept album o forse addirittura una metal opera perché racconta la storia giusto perché racconta al cento per cento c'è il protagonista victor che viene trasportato da una bambola in un villaggio magico ci racconti qualcosa della storia narrata da questo disco tanto per cominciare beh ma allora diciamo che innanzitutto c'è da menzionare il sottotitolo perché si chiama hermitage ma si chiama the room as ice part two e ovviamente queste sono quelle chicche per intenditori che seguono la band ovviamente in of jupiter and moons noi avevamo scritto un pezzo marco aveva scritto un pezzo che si chiama the room as ice part one ed è lì che è nato in realtà questo concept album perché quando marco scrisse the room as ice e ne scrivemmo il testo lui da subito ci disse io prima o poi voglio fare the room as ice part two e voglio che sia un concept album quindi è una cosa che in realtà è nata nel 2018 questa cosa qua questo questo album è stato concepito nel 2018 concettualmente ovviamente poi è passato un bel po di tempo prima che che fosse messo in in opera però l'incipit di questa bambola giapponese che si chiama da room dove tu disegni un occhio quando la compri ed esprimi un desiderio e disegni il secondo occhio quando il desiderio viene esaudito è una è una storia che ci ha affascinato si parla ormai di cinque anni fa quando abbiamo letto sostanzialmente di questa leggenda perché una leggenda vera questa cosa della della bambola con gli occhi marco si è super 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 noi diciamo intrippato qua non so se voi se voi dite la stessa cosa ok marco si è intrippato letteralmente con questa con questo concetto e da da room as ice part one in of jupiter moons finalmente nel 2023 siamo riusciti a ritrendere il concetto e tramutarlo in disco vero questo è proprio un desiderio vero e proprio di marco che è stato ovviamente abbracciato da tutto il resto della band perché effettivamente anch'io la trovo molto molto fascinante e siamo tutti quanti sulla stessa linea è una è una bella leggenda che abbiamo che è stata voluta mettere in musica la storia come tu e questo victor che trova questa room nel caos della di new york tra le cose che tra l'altro la scelta di scrivere questo disco è stata fatta ben prima all'ingresso di christine di cui ovviamente immagino che parleremo dopo e christine è nata a new york per cui è una coincidenza un po particolare quindi victor è nato a new york trova questa bambola disegna il primo occhio ma dopo che è nato il primo occhio non esprime un desiderio ma viene appunto trasportato nella terra di hermitage dove c'è tutta una leggenda che poi ovviamente uno deve ascoltarsi il disco e oppure può anche leggere il libro che marco ha scritto che esiste anche un libro che è stato venduto adesso è sold out ma sicuramente troveremo il modo di rilasciarlo per chi vorrà interessarsi alla storia stessa e ovviamente se ci mettevo a raccontare tutta la storia spoileriamo il disco e soprattutto perdiamo otto ore ben più ben più dell'intervista stessa però succedono tutta una serie di vicissitudini che mettono come in qualsiasi film in qualsiasi vera storia victor sotto difficoltà e dove incontra tutta una serie di altri personaggi che nel disco essendo un concept album o una piccola metal opera come hai detto tu vengono interpretati da tutta una serie di altri cantanti che siamo appunto io e christine principalmente ma anche fabienne degli elu come come parte femminile assieme anche a laura ex eluvezzi ora nei faun e alessandro conti quindi ci sono tutta una serie di ospiti che vanno a ricoprire dei roli e ovviamente abbiamo anche avuto la fortuna di avere un narratore per questa storia che è arian lucasen che è sostanzialmente un sogno della vita che si che si tramuta in realtà infatti l'album ha un sacco di featuring proprio per poter mettere in scena tutte queste voci che stavi raccontando tra l'altro avendo tu citato alessandro conti mi dai il gancio per farti un'altra domanda perché questo disco oltre che essere un cambio da un punto di vista contenutistico e anche un cambio da un punto di vista musicale perché rispetto ai precedenti dei temperance magari è un po meno tantiana un po meno patinato e siamo un po più verso il power metal cosa c'è dietro questo cambio di stile ma semplicemente allora anche questa è una scelta che è stata fatta ben prima nel cambio di formazione quindi io stai io sono uno di quelli che legge online segue i commenti guarda quello che succede su youtube quello che si dice sui vari social e tanti dicevano eh ma hanno cambiato per via della nuova formazione in realtà la nuova formazione è stata la necessità di cambiare formazione è arrivata dopo che il disco era bello che scritto sostanzialmente anzi avevamo addirittura registrato già delle demo con alfonso e con malessia e ti dirò di più questa è una cosa che è scritta nel bucle del disco le parti di batteria sono state registrate dal ponso non le ha registrate marco per cui marco sacchetto ovviamente il nuovo batterista per cui è un cambio che non è avvenuto assolutamente previa della formazione ma è avvenuto proprio per una scelta che si è fatta perché marco che è il songwriter al cento per cento di di ermitage ha sempre sognato la metal opera e dopo tre dischi con napalm perché questo è il terzo disco sostanzialmente che esce con napalm e tutta la scelta dei temperance dove lui si è sempre direzionato verso questa linea che come tu hai giustamente definito è più o tantiana o patinata o insomma come come vuoi come vuoi definirla a un certo punto lui si è detto sai che c'è inizio ad avere una certa come diciamo noi musicisti quando non abbiamo più 15 anni noi iniziamo ad avere una certa dal nostro punto di vista voglio fare un disco che suona esattamente come ho in mente senza pensare a regole commerciali senza pensare a come dovrei farlo perché i temperance devono tornare in questa maniera in quell'altra maniera e ha fatto una ha scritto un album che musicalmente al cento per cento rispecchia quelli che sono i suoi gusti che secondo me è una scelta rischiosa perché comunque ti imbatti nei confronti di un mercato che può o non può o non può abbracciare quello che è il tuo gusto specifico e soprattutto ti imbatti contro in un mercato che magari si era abituato a sentire i temperance in una certa maniera per cui per molte è stata una rivoluzione però la stessa maniera sai la musica è un mondo libero dove non hai delle regole se non quelle che ti auto imponi e nel momento in cui tu entri nell'ottica che sei libero di fare quello che vuoi ovviamente succedono anche cose di questo tipo con grossi stravolgimenti tanto tu hai menzionato i due dischi precedenti con Napalm e ce li abbiamo da mostrare Viridian e Diamanti perfetto chi sta guardando questo video comprateli perché non basta ascoltare i dischi su Spotify vanno comprati se vogliamo sostenere i nostri artisti preferiti tu hai parlato fin qua del cambio dal punto di vista di come i musicisti hanno affrontato questo cambio ma non hai detto nulla di te dal punto di vista vocale questo per te ha comportato qualcosa un impatto ma sai allora in realtà io sono un grandissimo fan del teatro sono un grandissimo fan del musical in particolare e avere la possibilità di interpretare un ruolo in una metal opera per me diciamo che è proprio un mare nel quale nuotare in maniera in maniera in cui quando Marco mi ha proposto quest'idea ovviamente io sono stato super super entusiasta e vocalmente parlando mi ha dato molto più spazio di fare le cose come piace a me sostanzialmente perché adesso non è che negli altri dischi non facevo le cose che mi piacevano voglio che passi questo messaggio però non siamo mai andati all in con la teatralità con i temperance anzi è sempre stata una band dove per una questione di formazione per una questione di conformazione della line up ognuno di noi aveva una sua vocalità e quella vocalità si cercava di inquadrare in maniera molto chiara senza portarla al suo limite dal punto di vista interpretativo perché ovviamente bisogna cercare di trovare un match tra i tre cantanti stessi quindi bisogna cooperare e ovviamente viene naturale come discorso laddove c'è cooperazione leggo la personalità del cantante e va un pochettino messa da parte altrimenti si rischia o di creare confusione o di risultare troppo differenti l'uno dall'altro bisogna cercare di venirsi incontro musicalmente quando invece apri le porte in una situazione dove è un musical e ogni personaggio ha la sua personalità non importa più se uno ha la voce rocca o una voce pulita uno è super uno è un penore uno è un baritono uno è un basso immaginati un'opera teatrale dove ogni personaggio lo devi riconoscere dalla sua voce quindi puoi veramente andare al 100% in quella direzione ed è quello che è successo perché sostanzialmente in questo disco io canto tutte le parti un pochettino più esasperate dal punto di vista della teatralità sono un po' quella voce che si riconosce subito che è da musical rispetto a quello che fa Christine quello che fanno Marco che invece sono molto più sparati e molto più rocchettari diciamo perché la loro figura viene rappresentata meglio da questa cosa qua ma tant'è che abbiamo avuto bisogno di altri cantanti per aggiungere altre vocalità proprio per dare più identità alle varie vocalità tra l'altro Christine ha una voce molto particolare per il panorama symphonic metal perché è un contralto quindi a differenza delle altre cantanti più non lo so più iconiche del panorama symphonic metal come possono essere Florian, Sentaria o Clementine di cui parleremo tra poco lei ha un contralto quindi ha una voce completamente diversa questo comporta che dovrete riadattare le canzoni vecchie ad esempio per cantarle dal vivo con lei? ma sicuramente faremo una selezione questo è sicuro insomma perché è chiaro che come ti dicevo c'è un grosso cambio che è successo dal punto di vista stilistico ma ovviamente la vocalità di Christine è bella presente insomma è rilevante non è una voce che passa inosservata mi viene da dire non è quella voce che puoi facilmente sostituire con un'altra cantante che ha una tessitura simile anzi bastano 3-4 note per riconoscere la sua voce che per me è un pregio grandissimo per un cantante la riconoscibilità sai quando ascolti Dickinson bastano 3 sillabe dici ah questo è lui quando ascolti Edfield 3 sillabe ed è lui e Christine rientra in questa categoria di cantanti dove veramente bastano 3 sillabe per dire ok questa è lei ovviamente se la conosci dal punto di vista di vocalità e sì indubbiamente per quanto tutti i cantanti possano cantare tutte le canzoni perché quando si parla di qualità o di o di abilità ci sono canzoni che sicuramente rendono meglio con una vocalità come poteva essere quella di Alessia rispetto a una vocalità come quella di Christine come ci sono canzoni che sicuramente renderanno meglio con la vocalità di Christine rispetto a quella di Alessia o di Chiara insomma per cui sicuramente faremo una selezione e in generale almeno per quello che riguarda il 2024 sicuramente ci sarà un grosso impatto del disco che stiamo promuovendo quindi Hermital sarà portato dal vivo con una buona quantità di brani nella scaletta delle prossime tournee delle prossime date insomma anche perché è normale che quando lanci un disco suoni principalmente i pezzi di quel disco insomma andiamo passiamo andiamo un po' più indietro parliamo dei Visions of Atlantis questo è l'ultimo album Pirates che è uscito nel 2022 e questo album così come tutti i precedenti dei Visions of Atlantis parla di mare perché questo parla di pirati ma il mare è un tema molto ricorrente e non per nulla la band si chiama Visions of Atlantis se avete anche delle canzoni che parlano dell'isola di Lemuria da cosa nasce questa affascinazione per il mare? ma allora questa è una domanda che ovviamente va riportata alla nascita della band quindi si parla del 2000 quando la primissima formazione di Visions of Atlantis era appena nata e lì semplicemente sai è stato un trend dato dai cinque membri originali quindi ti parlo attualmente c'è soltanto Thomas non solo il batterista è rimasto il membro fondatore e originale della band ed è quello che porta avanti il nome però ai tempi il mito di Atlantide era proprio nelle loro scorreva nelle loro vene e da sempre sognavano di fare una band symphonic metal che andasse a ricoprire quelle tematiche per cui semplicemente è la passione di ragazzi perché insomma 23 anni fa sono parecchi ormai e quella volta lì anche Thomas era un ragazzino assieme ai suoi colleghi dell'epoca e semplicemente presi da una passione si sono lanciati in questo mondo poi i Visions hanno avuto un miliardo di vicissitudini come basta leggere la pagina Wikipedia per farsi un'idea e nel 2016 sono rinati con la formazione attuale ma senza di me e poi nel 2018 sono entrato anch'io ovviamente le tematiche erano rimaste le stesse ma a differenza anche qui di quanto spesso si legge in cui si dicono ma con questo disco hanno rivoluzionato il loro aspetto, la loro visione e questa è una mezza verità perché in realtà come giustamente detto non è soltanto la tematica del mare ma è la tematica piratesca vera e propria che sta nelle vene della rinascita nel 2016 dei Visions of Atlantis innanzitutto si vede da tutte le copertine ma se uno va a vedersi il video di The Deep in the Dark si parla di un disco del 2018 ci sono dei pirati che fanno combattimento nel video così come ci sono brani che si chiamano The Silent Mutiny che vuol dire l'ammutinamento silenzioso Words of War, parole di guerra quindi è una tematica che in tutto e per tutto era nelle vene della band ma non era mai stata portata anche in questo caso al 100% abbiamo fatto questo passo ed è stata decisamente una mossa vincente tra l'altro questo album è un caleidoscopio di cose diversissime perché ci si trova della musica ottantiana, ci si trova dell'epic metal, ci si trova del folk nordico come è nato? Da cosa sono date questa commissione di cose diverse? Ma sai, allora nei Visions posso parlare in maniera un pochettino più diretta perché sono il principale songwriter della band e in tutto e per tutto io ti dico che l'ispirazione va dove va non c'è una vera e propria decisione quello che succede è che io scrivo, che ne so, 20 pezzi, 18 pezzi e poi se ne vanno a selezionare quelli necessari per il disco per cui magari scarti dei brani che sono troppo power, scarti dei brani che sono troppo rock scarti dei brani che sono fuori stile e quelli che invece a ispirazione arrivano come devono arrivare e inquadrano l'identità sonora della band vengono inseriti però io sono un grande fan della diversità nel senso ascoltare un disco che suona come se fosse la stessa canzone dall'inizio alla fine è una cosa che mi ha sempre deluso un pochettino anche perché poi magari dopo dieci dischi uno dice ah guarda mi compro il best off perché tanto è tutto quello che la band deve dire e quando un best off dice tutto quello che la band deve dire per quanto possano essere magari dei pezzi fantastici che hanno scritto la storia per me non è mai una bella cosa a me piace l'idea che il disco tu lo ascolti e di brano in brano ti porta su diverse dimensioni e ti fa vivere delle sensazioni differenti e questa è una filosofia che abbiamo abbracciato al 200% con i Visions e stiamo portando avanti da un po' di dischi e sicuramente anche il prossimo disco che ormai è scritto racchiuderà ancora nuovamente una serie di brani che saranno molto diversi l'uno dall'altro ma tra l'altro i Visions of Atlantis sono forse la band al mondo che può vantare la coppia di cantanti migliore al mondo nel senso che sia tu che Clementine siete tra i migliori se non i migliori nel vostro ruolo come funziona così la dinamica lavorativa tra di voi perché non sempre avere due top player funziona invece mi sembra che funzioni alla grande intanto ti ringrazio tantissimo a dir poco lusingato diciamo che è una dinamica che si è costruita perché in realtà quando sono entrato nella band era uno dei problemi principali il fatto che c'era una grossa diversità è che c'era una grossa personalità da parte di entrambi problemi, problemi da quella grossa però era una questione aperta che abbiamo affrontato poi sai, con i Visions abbiamo veramente suonato tantissimo perché si parla di una band che sta facendo 80 latelan da quando sono entrato sono tantissime e sai, concerto dopo concerto se sei consapevole se sei attento scopri che magari Clementine chiude le consonanti chiude le frasi vocali in una certa maniera e pronuncia le consonanti in una certa maniera vibra in una certa maniera io vibro in una certa maniera quindi con dello studio reciproco dal punto di vista vocale si va a creare una situazione dove le due voci vanno a seguirsi e a collaborare pur mantenendo quel colore che ognuno di noi ha e soprattutto tutti e due siamo molto teatrali perché una delle fortune dei Visions of Atlantis è che c'è tantissima interpretazione che come ti dicevo prima è un po' il territorio in cui non solo io ma anche Clementine nuotiamo con più piacere sostanzialmente quindi vuoi che l'ambiente è giusto vuoi che la musica te lo permette perché anche qua abbiamo un ruolo siamo dei pirati lei è il capitano io sono il combattente tra virgolette ma in tutto e per tutto siamo due pirati quindi abbiamo un alter ego che sale sul palco quindi c'è interpretazione e questo è bello perché ci dà un grandissimo margine di manovra studiandoci vicendevolmente e capendo come far funzionare le due voci concerto dopo concerto abbiamo raggiunto un punto come per fare un esempio visto che hai citato top player stiamo diventando un po' quel team che fa il cross senza guardare se l'altro è in area perché sai che è già in area e questo è un po' il meccanismo che adesso sta funzionando sia nel momento in cui c'è da cantare live ma anche nel momento in cui c'è da scrivere il pezzo perché adesso come adesso non devo più pensare ma questa parte vestirà o non vestirà su di lei vado già a scrivere la melodia pensando alla voce di Clemmie mentre la sto scrivendo e so che tipo di movimenti fa che tipo di inflessioni fa e questo rende ovviamente tutto molto molto facile per quanto poi ovviamente in fase di registrazione vai ad affinarle via avanti ma partire con uno schema con una tattica che l'allenatore conosce bene e metterla in pratica è facile e c'è ancora margine di crescita per cui sono curioso di vedere dove andrà ad evolversi la questione di Visions The Sky's the Limit si dice The Sky's the Limit esatto ma io tra l'altro i Visions of Atlantis li ho visti dal vivo già con voi due entrambi due volte e mi sono accorto di una cosa che lascia molto che colpisce molto che in realtà è molto gioiosa la musica di Visions of Atlantis i vostri concerti sono delle feste mi ricordo in particolare l'ultimo dell'anno scorso a Legend in cui tu dicevi che bello siamo tornati al mondo normale dopo la pandemia quindi diversamente da altri gruppi metal che magari esprimono rabbia o esprimono altre cose voi esprimete concetti molto gioiosi e molto luminosi anzitutto dimmi se ci ho preso e in secondo luogo raccontaci qualcosa di cosa c'è dietro beh allora innanzitutto la musica è una forma di espressione apertissima per cui c'è chi la sfrutta per liberarsi dalla propria frustrazione c'è chi la sfrutta per motivi politici c'è chi la sfrutta per urlare al mondo la propria condizione e c'è chi come noi la sfrutta per cercare di dare gioia a chi la ascolta quindi ci hai preso al 100% ma è una nostra volontà noi appunto soprattutto con i Visions anche con i Tempera c'è molta c'è molta felicità non è una band che è più è più cup però siamo comunque una band gigiona però sicuramente con i Visions siamo diciamo che la nostra missione è quella di trasportare l'ascoltatore o chi viene al concerto fuori dal proprio mondo per due ore raccontando una fiaba perché sostanzialmente siamo una band che canta storie noi ci definiamo dei canta storie siamo dei pirati che raccontano storie piratesche per cui sarebbe molto fuori contesto creare un ambiente cupo e raccontare dei pirati che vanno a rubare tesori e ammazzare gente insomma non è certo quello che vogliamo siamo quei pirati fantasiosi e fantastici che per due orette di concerto ti prendono ti portano in quel mondo fiabesco che quando eravamo ragazzini era Peter Pan e da ragazzi e da adulti era il mondo dei pirati dei Caraibi raccontato nella nostra maniera quello di Monkey Island per i nerd che adorano i videogiochi sostanzialmente e cerchiamo di darti due orette di felicità di gioia e di avventura tant'è che forse l'idea di portare avanti questa cosa del teatro del musical dell'ambientazione ancora più esasperata nel mondo nel mondo più fatesco andrà a impattare anche i prossimi le prossime tournee questo tour che abbiamo annunciato da poco che si chiama Armada vorrebbe essere nei programmi nostri c'è sicuramente quello di esasperare ancora di più l'aspetto musical con effetti scenici e con una vera e propria avventura per chi entra nella nostra nella nostra barca fa questo viaggio che fa questo viaggio con noi però l'obiettivo appunto è proprio quello di divertire e intrattenere perché almeno qualcuno nella musica deve farlo non tutti possiamo essere sai belfegor o bimoth che hanno altre cose da dire alla loro maniera e sono sicuramente meno leggere di quelle che proponiamo noi tra l'altro visto che ne abbiamo parlato parte il nuovo tour come hai detto ci sono due date in Italia io ho segnato il 19 ottobre a Milano a Legend io sicuramente ci vengo chiunque stia guardando questo video se vuole unirsi ben volentieri perché andare a vedere le band dal vivo e comprare il merchandising è una cosa è una cosa molto importante tra l'altro Michele è uscita recentissimamente la versione orchestrale di Pirates stesse canzoni suonate dall'orchestra che non ho da farla vedere perché il Corriere purtroppo me lo deve consegnare oggi quindi questa mattina non ce l'ho se ci vuoi raccontare se ci vuoi raccontare com'è nata questa cosa ma è nata ascoltando i fan in questo caso qua perché allora è successa una cosa interessante noi per lanciare il tour che hai visto tu con Alexandria nel nel 2022 settembre ottobre 2022 abbiamo girato dei video promozionali che anche questi erano delle delle vere e proprie scene scene di film eravamo io e Clemi che su un fiume trovavamo una bottiglia con dentro un messaggio e questo messaggio una volta aperto si rivelava essere una mappa con tutte le date della tournée e ne abbiamo girato questa questo mini film di un minuto e mezzo sostanzialmente con in sottofondo come colonna sonora avevamo la versione orchestrale di In My World che è uno dei brani di Pirates e quando questa cosa è stata ascoltata diversi fan ci hanno iniziato a scrivere oh ma dove posso trovare questa versione oh ma dove posso trovare questa versione e noi abbiamo detto guarda queste qui sono le orchestre che sono state scritte per per Pirates che noi abbiamo anche in versione in versione isolata ovviamente poi abbiamo rifatto lo stesso giocchino per il tour americano da Headliner con un altro brano e abbiamo ricevuto tutta un'altra serie di richieste e sono state così tante e sai ogni tanto noi musicisti esageriamo diciamo abbiamo ricevuto così tante richieste ed erano dieci no in realtà erano un numero decisamente rilevante di richieste che ci chiedevano di avere di rilasciare in qualche formato il disco in versione orchestrale e quindi in accordo con i Palm Records abbiamo deciso di fare questo esperimento e rilasciarlo ed è stata una cosa fatta in maniera corretta perché la versione speciale è andata sold out in una settimana dopo il lancio del preorder e da quello che sappiamo è una versione limitata non è sicuramente la stessa tiratura che ha un disco originale che è un disco inedito nuovo però sta andando molto molto bene l'etichetta è soddisfatta noi siamo soddisfatti per cui siamo molto contenti di questa cosa un appunto è un disco prettamente strumentale non ci sono le voci per cui è il disco che va ascoltato che ne so a Natale con la famiglia o in sottofondo mentre uno legge un libro o un'avventura o mentre uno sta videogiocando è un disco che è fatto per essere un intrattenimento non è sicuramente il disco che ascolti per ascoltare le parole per ascoltare i testi e via avanti ottimo va bene grazie di questa spiegazione fin cui abbiamo parlato del tuo aspetto metal ma non dimentichiamoci che tu canti anche in un gruppo che fa musica new age che è completamente diverso che tra l'altro sono due generi di musica che mi piacciono molto quindi in realtà io amo anche molto il new age che è una cosa completamente diversa dal metal tu canti negli era che sono una band che fa anche in questo caso una commistione di cose stranissime perché ci si trova dentro del blues del rock della classica della musica sacra ci racconti qualcosa anche di questo progetto? beh allora gli era sono un progetto storico e immenso gli era sono la classica band che quando dici il nome nessuno conosce poi fai ascoltare a meno che anche il titolo del brano stesso spesso non si conosce poi uno va su youtube va su spotify scrive a meno ascolta il pezzo e dice ah ma sono questa band qua ed è un brano che è straconosciuto e tra l'altro loro negli anni 90 hanno credo ci siano tre o quattro dischi d'oro un disco di platino e diverse altre cose a livello globale per cui si parla di una band veramente che ha o meglio di un progetto perché non va definita band adesso spiego perché che ha veramente una nomea che è più che rinomata tant'è che quando nel 2018 arrivò questa mail in cui ci veniva scritto guardate il progetto era sta per andare dal vivo perché era la primissima volta che era andava live tranne dei concerti isolati che sono stati fatti in Russia anni e anni fa era vuole andare in tournée e stiamo reclutando i vari i vari componentisti e vorremmo avere in quel tempo ci hanno chiesto a me e ad Alessia o meglio ad Alessia principalmente e a me se c'era volontà di fare parte del progetto e ovviamente noi siamo rimasti abbastanza sbalordici e ho detto ma è una mail vera? sai quando ma è spam oppure è una richiesta una richiesta vera e propria perché loro scrissero al management dei temperance quella volta lì facendo richiesta per per assoldare Alessia Alessia e me quando ci siamo resi conto che era una realtà siamo non solo rimasti a bocca aperta ma anche super entusiasti e abbiamo ovviamente accettato perché non è l'occasione che ti capita ogni giorno sostanzialmente e era è una one man project dove Eric Levy che è lo scrittore compositore lui fa tutto sostanzialmente per questa band negli anni negli anni 90 ha scritto tutta una serie di hit incredibili che soprattutto in Francia perché è un progetto che è principalmente orientato in quello che è il territorio francese o Olanda Belgio Svizzera e paesi che comunque sono francofoni e francofili e da lì è nata appunto questa collaborazione che tuttora è attiva ci siamo trovati benissimo con tutti quanti i musicisti ma lì si parla di suonare con per esempio il batterista della prima tournée era il batterista di Anastasia e della seconda tournée era di nomi importantissimi bassista e chitarrista sono bassista e chitarrista di Jamiro Quai per cui insomma siamo siamo tra siamo circondati da musicisti con la M maiuscola e fa onore orgoglio ma anche tanta 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 soddisfazione poter essere una realtà di questo tipo qua 2024 cosa ci offre abbiamo già parlato della tournée immagino un nuovo disco in arrivo anche di Visions of Atlantis quel poco che ci puoi spoilerare beh no posso spoilerare parecchio è scritto è scritto al 100% in questo momento abbiamo più brani di quelli che servono ne abbiamo registrati 14 o meglio 14 più una versione acustica di uno dei pezzi quindi sono 15 brani sicuramente non tutti e 15 finiranno nel disco sicuramente uscirà in estate questa è una cosa che posso già dire ma sicuramente i primi singoli usciranno prima in anticipo in maniera che arriveremo all'estate con il disco fuori e con brani che saranno già conosciuti ma il 2024 sarà principalmente un'annata di musica del vivo perché a febbraio ci sarà la tournée di Temperance assieme ai Serenity poi ci sarà l'America nuovamente con i Visions of Atlantis poi c'è tutta una serie di festival che alcuni sono già annunciati altri sono in fase di annuncio ma si parla di una quindicina di festival distribuiti durante l'estate e poi appunto ci sarà Armada che è questa grossissima tournée che faremo i Visions dove alcune date in alcuni paesi non l'Italia sono ancora da aggiungere al calendario perché sono in fase di definizione in fase di finalizzazione in Italia finalmente suoniamo due date non una soltanto Milano il 19 come dicevi tu e il 24 di ottobre a Treviso quindi per una volta non sono così distante da casa è la prima volta che sono così vicino a casa con i Visions of Atlantis e poi io sono sicuro che come ogni anno si aggiungeranno altre altre date qua e là che insomma è sempre così tu parti con un'idea e poi finisci l'anno che ne hai fatte decisamente di più di quelle programmate per cui sicuramente sì disco nuovo è tanto tanta tanta musica dal vivo non possiamo augurarti meglio sia per la musica dal vivo che per il disco nuovo allora come dicevamo poco fa The Sky is the Limit in questo caso il successo è meritatissimo Michele grazie del tempo che mi hai dedicato delle spiegazioni molto dettagliate che hai dato su tutti gli argomenti che abbiamo toccato se qualcuno ancora indietro con i regali di Natale consiglio assolutamente i tuoi dischi grazie è sempre un piacere io adoro fare queste interviste perché spendere qualche parola in più dare qualche dettaglio far capire come le cose sono nate come le cose funzionano è sempre quell'occasione che a me fa tanto tanto piacere anche per dare degli input non è soltanto per parlare di se stessi che per carità fa piacere però non è non è il punto ma è tanto più per dare input e spiegazioni aggiuntive almeno io quando ero un fan di tutte le band di cui sono attualmente fan continuo a cercare 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 informazioni ovunque posso per cui spero di dare la stessa soddisfazione a chi mi segue come quella che io trovo da parte degli artisti che seguo io insomma l'hai fatto alla grande quindi ti ringrazio veramente per il tempo che ci hai dedicato stamattina grazie a tutti per aver visto il video buone vacanze e ci si risente l'anno prossimo ciao ciao assolutamente buon 2024